vero al giorno d'oggi sappiamo che un corretto stile di vita quindi una sana alimentazione un'attività fisica regolare una buona igiene del sonno possono rappresentare una vera e propria cura una terapia in alcuni casi con un'efficacia assimilabile a quella dei farmaci e quindi fondamentale integrare gli interventi sullo stile di vita nei piani di cura e di prevenzione dei disturbi dei disturbi mentali ad esempio nella depressione vista l'efficacia dimostrata in termini di benessere soggettivo e anche su un fattore che grava moltissimo sulle persone con disturbo mentale che la mortalità prematura riducendo il rischio di malattie fisiche